Allora ragazzi, buongiorno a tutti, mi sono appena svegliato, sono uscite le summon di Cooler e Goku LR Allora, ragazzi, allora, 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 vediamo un po' Io da questa summon qui, allora, mi servono, vabbè, Cooler, carta nuova, e vabbè, Junior, che non ho Goku ce l'ho, ability non mi dispiacerebbe, Vegeta non mi dispiacerebbe da ability Ability, lui non ce l'ho proprio, ability, ce l'ho full, non mi dispiacerebbe da ability Non mi dispiacerebbe per niente, e vabbè, poi, carta inutili E poi ragazzi, questa è la nuova summon, con i coin, non so l'anno, tipo, chiamato coin cristallo, no, cromatici, roba del genere, credo E, allora, qui ragazzi vedo, vengo comunque bellissimo Poi, loro due, che non ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, raga, sinceramente io non l'ho mai trovato, quindi trovarlo non mi dispiacerebbe E lui, vabbè, ce l'ho, e vabbè, carte, ok Però non so se in questa summon ci sono anche altre LR, non lo so, vabbè, comunque ragazzi, io direi, non perdiamo tempo Ragazzi, il primo video sarà su Cooler, e il secondo sarà su Goku, quindi, io direi, iniziamo e vediamo Ragazzi, ho mille stones, però, diciamo che non ho finito il... non ho finito l'eza delle fasi fino al 999 Quindi ho altre stones da racimolare Comunque, allora, per ora non ho visto un'animazione chissà che... Allora ragazzi, già vi dico che io non posso ascoltare Quindi io vedo solo le animazioni E... perché non... quando registro purtroppo l'audio non si sente, quindi... cioè la musica non si sente Quindi, non lo so, vediamo Allora... ma raga, ho calcolato questo video, lo sto registrando in bagno Perché in camera mi hanno da fare, quindi... quindi nulla Oh, eh... aspettate ragazzi, ma... Questa carta... ah, ok, non ce l'ho io Buono Però ragazzi, non hanno visto le scontate Un po' tragica Mmm... vabbè, potrebbe essere anche un LR random, quindi... Vediamo Allora... uno... ti prego, dimmi... due, buono Molto, molto buono Veramente, veramente... no, basta, mi ha visto Allora... fake out Ti prego Vabbè, abiliti Però, raga, io... vabbè, cerco cooler, quindi... Non ve lo so nemmeno a dire Cooler e Goku Però Goku... un altro no Ma io giuro, raga, pensavo doppio Vabbè Vediamo, speriamo, raga Io penso che sia forse un po' complicato trovarlo Però io devo capire Se nella summon di Goku Quella carnival, bla bla Se effettivamente Si può... Diciamo... Cazzo Se si possono trovare anche altre LR Perché... raga, ma secondo me quella summon Mi sembra Molto buona, quindi... Però, vediamo Ok Vabbè, raga, penso che questa sia shaftata Quindi direi che andiamo anche abbastanza veloce Perché, raga, sapete che Io, essendo che faccio L'editing da cellulare Io più... Insomma, rendo Più un video mi dura tanto E... Ok, dicevo Più un video mi dura tanto Più ci vuole per caricare Cioè, più tappo ci vuole per caricare Comunque 150 stunts per ora Una carta... Vabbè Una carta non ce la vedo Una... È per l'ability Eh, raga Il problema Che non vorrei Che noi trovassimo sempre le stesse carte Doppione Perché ho detto Ok, mi servirebbe la d'ability È bene Però non mi vuole dare sempre le stesse Oh, buono Realmente, raga Oh Eh, qua... Qua sono contento Sono contento Ok Molto contento Molto contento Ma vai, raga Ma se me lo droppa Mamma mia Mamma mia Se me lo droppa Ma la vedo dura La vedo dura No, ok, vabbè Questa ce l'ho Ability Ma, raga, però Vi devo dire Vi devo dire Vi devo dire Allora, raga Qui penso che Faremo Krilin E C18 Quindi dovrebbe essere Comunque Banner Raga, vi ripetere Un po' Se ascoltare Quindi non so Almeno se dice Aguari Dai Ichkaban Ichkaban Quelle cose lì Se dice Kamehameha Non lo so Però vedendo Krilin E C18 Poi, vabbè Qui penso che Aspettate raga Ma dovrebbero dare Di ticket O sbaglio Perché avevo letto Di alcuni ticket Kula Kula Furisa No broda No, basta Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Raga, io direi Ci possiamo anche Fermare Cioè A me andrebbe bene L'Ability Però Il problema È che Non so Se poi Riusciamo a trovare Goku Quindi Però aspettate Vediamo se C'è Io di un attimo Il fatto dei No Non mi hanno dato Nessun ticket No Eh no Anzi aspettate Facciamo così Eh Ah no Aspettate Credo si comprino Questi ticket Credo raga Credo Aspettate Faccio un controllino Multalla veloce No Non si vedeva qui Dove si vedeva io No Aspettate Ah qui forse Sì sì Mi sa che era qui Che si vedeva Special Sì Sì Sta qui Vabbè raga Io vi ringrazio Per aver visto Questo video Io sono felicissimo Sono veramente felice Trovato di tutto In 200 stunts Raga Quindi Raga Io vado Ci vediamo Nel prossimo video Che sarà quello di Goku Che lo vado a registrare Ora Lì raga Penso che Ci andrò un po' più pesante Forse Perché Mi servirebbero Un po' più di carte Quindi Grazie Nulla Vi ringrazio Ci vediamo nel prossimo video Un bacio Un abbraccio E ciao a tutti Ciao a tutti